L'industria agroalimentare è il primo settore industriale europeo, raggruppa quasi 300.000 aziende ed è il primo datore di lavoro in Europa. In questo contesto, Ellis ha scelto di armonizzare e razionalizzare la sua offerta di abbigliamento professionale destinata alla produzione agroalimentare. Con la nuova gamma Food Industry, Ellis è la sola azienda di noleggio e manutenzione in grado di proporre un'offerta globale ad un numero così grande di paesi. La gamma Food Safety, sviluppata da Barenzen nel 2015 e già presente in 13 paesi, è il frutto del lavoro di stilisti, tecnici e responsabili di progetto dell'Ellis Design Center. Questo lancio ha incontrato un vero successo tra le aziende di settore. Con il progetto di essere sviluppata in tutta Europa, la nuova collezione Food Industry riprende il suo design e la sua costruzione ed è stata ottimizzata per rispondere alle aspettative e dalle specificità di ogni mercato. Questa nuova gamma è costruita secondo le raccomandazioni della norma DIN 10.524. Attualmente si tratta dell'unica norma che fornisce raccomandazioni sulla costruzione degli abiti per tipologia di attività. Queste attività sono state classificate in base a tre livelli di rischio in funzione del potenziale grado di contaminazione. Il rischio basso corrisponde ad un ambiente nel quale c'è poco rischio di contaminazione degli alimenti. Si applica nel caso di manipolazione di derrate poco deperibili come i legumi, gli alimenti disidratati, gli ufilizzati e gli alimenti imballati. Il rischio alto si applica nel caso della manipolazione di derrate deperibili o trasformate non imballate. In merito al rischio massimo si applica nel caso di manipolazione di alimenti più sensibili, particolarmente tutto ciò che è destinato ad un consumo immediato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.